Adesso superiamo tutti, almeno non c'è puzza. Per ovviare il problema smog abbiamo deciso di superare tutti quanti. Mi sta intossicando, ma tutto bene? C'è molta delinquenza. Abbastanza. Che poi continuano a slimitare queste scoregie. Vai, vai te. Si sono girati tutti. Sì. Ah, siamo arrivati? Sì. Sì. Molto bene. Da posto. Aspetta che la metto in modo tale che non me la blocchino. Bene, non è molto il mio stile di raduno comunque va bene. Ma tutto bene? Oh amore! Ho paura. Cosa devo dire? Devo dire qualcosa? Ciao fans, oggi siamo nella zona industriale e tenteremo, non con Eros che non è capace, di impennata. Ciao fans, siamo qua nella zona industriale di Cerro Maggiore e tenteremo l'impennata con il nostro amico Alessandro. Mi sto cagando sotto. Veramente mi sto cagando sotto. Tanto lo faccio quando ripartiamo da qua. Ok.